Abbiamo ricevuto delle indiscrezioni sia io che l'Avvocato Cocchiarole e stiamo cercando di capire se quanto c'è stato riportato potrebbe trovare dei riscontri. Quindi oggi con il georadar carrellato della MHA detector stiamo facendo questa perlustrazione e vediamo cosa succede. Arrimaremo qui fino a che diventerà buio e speriamo di andarcene via prima con qualche risultato positivo ma è chiaro che questo dipende un po' da quello che troviamo. Stiamo impiegando le tecnologie migliori che oggi il mercato mondiale possa offrire per la geolocalizzazione dei corpi. Se ci fosse il corpo qui sotto di Michele Cilli noi sicuramente oggi lo troviamo. Questo è il luogo dove uno degli indagati è venuto due volte quella notte fatidica del 16 gennaio. Quindi è qui che lui ha sostato per ben due ore, la prima volta cinque minuti e la seconda volta sempre la stessa notte alle sette della mattina è ritornato qui ed è rimasto per due ore. Quindi è qui che noi stiamo cercando il corpo di Michele Cilli. Queste sono indagini supplettive che stiamo svolgendo e facendo per conto della famiglia e per conto dell'avvocato Cocchiarole. E quindi siamo qui appunto per capire che cosa potremo ancora fornire agli inquirenti prima del 15 dicembre, la data dell'ulteriore udienza che verrà celebrata. Grazie. Grazie. Grazie.